Grazie. 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 Grazie a tutti. E intanto Luca è là in alto, è una bella verticale con una serie di turno. Arricchiamo l'edrio verso il suolo. Tutto noi per la scendere e poi... ...circare... ...circare... Il pilota in queste richiamate è soggetto a una forza di circa 6 G. Quindi pesa 6 volte il proprio peso corno. Un giro di vite. Ecco. Adesso l'aere di linea... ...blessio. ...la nuova. Un giro di vite. E dobbiamo andare al piano. Per un tonnoio in salita, una manovra apparentemente facile tanto che il pilota in questo caso perde completamente condizioni dove stia la terra e si basa soltanto sulla sua grande esperienza la precisione con cui esegue questa manovra. E' un segno di tappo sull'asse, questa manovra è l'asse principale della terra, si porta in un rovesciamento. Il motore ha tirato Luca per far fu che il flusso del motore sia sempre positivo. E questa è una manovra di estrema difficoltà ed è un rolling tour, praticamente l'aeroplano sta tirando e sta eseguendo una serie di turno sempre in tiro, estremo coordinato. Spinge Luca. Meno 45 gradi, adesso Luca ha la testa in giù, riprende il volo al rettino normale diciamo e spinge. Qui in questo caso Luca è soggetto a un'accelerazione di 4 volte, quella normale, e tenderebbe a spararlo fuori dalla aerea. Uno snap a scendere, praticamente uno stallo binario. Parashow, parashow 2010. Quindi tutti pronti? Dalla sinistra, quindi dalla pista 3-4, vediamo un po' Luca cosa vuol fare. Poi intanto anche Guido. Questa grande testa. Questa grande testa. Si vede, parashow. Mette! Ed ecco qua. Vediamo Luca a sinistra e Guido a destra. Intanto sopra le nostre teste un 737-800 di Ryanair in atterraggio all'aeroporto di Ciampi. Un rettore dei voli è la completo coordinamento con il traffico commerciale che passa qui sopra, in modo che tutta la manifestazione si svolga nella più assoluta sicurezza. A sinistra per la pista 3-4, quindi quella che va verso nord, con una scivolata d'ala. Pensate che questa manovra è stata inventata durante la prima guerra mondiale per far atterrare i biplani che all'epoca non erano provvisti di flap. Quindi state vedendo una manovra che ha quasi 90 anni di età. Qui si vedete le condi. Si, va bene aiaki a teni? Qui si vedete le condi di dall'anno? Buon anno, sicuramente il mercato a tenere i batteri è la esperanza. Qui si vedete una manovra che un'ultimo l'alanzare che andate verso l'alanzare. Questa è che per gli altri l'alanzare che attraggiamo. Ripa di l'alanzare e che una manovra che subita l'alanzare. Iniziamciata, l'alanzare che è un'ultimo l'alanzare. Enizia ilcino è un'ultimo l'altà all'azare in un'ultima che attraggio all'unico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.